o prendermi la coroncina coroncina poi basta questa è la mia prima partita con Morgue eccolo qua il pugnale dalla gola siamo partiti tutti giusto a parte Revenant, che cazzo parte Revenant col lanciare la tua abilità successiva costa 20% in meno perchè lancia magie rega ha manato la cu eh, capito eccolo lì il grabone mi sono mancato il primo la stita ecco qui lì il loro Mardok l'ho ritorno ancora per fare la stita beh, questo non lo credo lo so ma, uh, ritor di là da PC ti vedo che sei con la cartina in mano, fratello no, non mi prendi ti vedo Ritor che sei la cartina in mano, ti vedo proprio e non mi prendi, haha E' mo' stavolta ma' preso però Uh che male Uh che male Uh che male Oh porco Dio si è incastrato Ti va a fare il buff del fiume Riktor lì a sinistra Sare già preso Modikesh Lo ho fatto io Lo ho fatto io E' vero che Modikesh sei tu Occhio che però ti potrebbe arrivare Te lo tiro un coltelletto Occhio Ma me l'hai lasciato Questa mana Riktor qua Vai dire il programma E poi proprio La mana l'hai finito dito Occhio che però anche lui C'ha quella blu che li fa recuperare la mana Non mi pilli manco Faccio zig zag Guarda a destra Sinistra Sinistra Quattimo Loro Riktor Mi fatti stare con la Oh ricollo subito Oh ricollate Mi danno un base però Spera scendi E' grande Ed è pure livello 13 Ma vabbè ha giocato un po' Spera scendi Che c'hanno in giunga loro di là Quante no? No Non c'è vero Quanto Dei offraners Eh te l'ho rubato loro Ha ha Donato Riktor Lo vedi eh? Ok ma torna su No 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 Torna su sinistra Sì sì Solo ulti Solo ulti eh Si sta triste Aia Oh 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 Si salva Si salva no 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 non fai niente di quello che credi no 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 sei arrivato giusto da lì a te ma l'ho mai preso ma è solo silenziato no no devuta predator non so che una spirito verso destra la buff del fiume l'ho già fatti io c'ho detto attenti a destra niente niente non venire non venire non venire non venire non venire oh ar s огрand are you want to need that ecco lui no 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 io ce l'ho ulti anche guarda la guarda la tiro no no mi salto però aspetta aspetta che quello stai eh ma non ci arriverò mai da quella vai via via oddio forco oddio ho missato il coltello tra l'altro come ho fatto a missalo che è largo 4 metri porca puttana l'ho tirato troppo presto eh si l'ho tirato troppo presto ah 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 la shimby che fa che ganka l'ha lasciato senza vita vabbè è abbastato proprio vabbè comunque quando sei di livello 13 o sei un cretino che se l'ha fatto in coppia o comunque ci hai giocato il loro quang? bene così è bello burroso è arrivato sevarog no guarda come si è asservato il sta igi sta in per niente deli da qua eh ma io si ce l'ho si ce l'ho ce l'ho la ulti ce l'ho no era quanga non era igi no era igi non aveva quanga non si vedeva lo dovevi vedere tirando dopo la ultima vabbè guarda oh oh rictor grande grande oh sevarog stai senza mana i spanto provate per scappare fa sevarog no come viene in mana? l'ha preso guardalo guardalo sevarog qua che scappa e lo vedo ci sono bloccato Io vado a farmi Mardok, se ce la faccio. No, perché Mardok se ne va indietro. No, Mardok viene stappando. Guarda che vengono un bel marziaccio. Non potrebbe essere una bombetta. No, non lo so, non lo so. Ecco qua. No, non lo so, non lo so. No, non lo so. Non lo so. Non lo so. Ok io continuo a bruciare la straccia arrivo verso il centro ma quanti sono mamma mia chi c'è l'ho il marchio? sono tutte mille d'orette oh rictor però là oh rictor via 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 io via donna non so chi c'è l'ho il marchio o tiro chi è l'ha il rictor? rictor muore ahia sevarog ahia sevarog sei invisibile sevarog sei invisibile sei invisibile ah 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 non mi prendi oh questo è rimasto da solo qua no c'è sevarog dietro che gli fa la guardia però adesso non c'è più sevarog adesso non c'è più sevarog ma però ci sono tanti minion che mi scassano tutto c'è il marchio dei hiki capo di punti c'è un 5 6 7 8 posso già mettere questa va bene va bene vai shimbi vai che non arrivi dai dietro si si se non fa shimbi vai mi manco la mia via ci aspettavi un attimo e prendevo l'assist e chi viene a destra va a destra guarda se c'è da coprire niente no muore sevarog muore sevarog sevarog muori hola è arrivato cosa c'è 150 torreste ma c'è 1000 torreste no perchè non gli ho fatto niente perchè stavano a urti dei raven ma dai e non era ma guardate il kill guarda là quello là senza vita no guarda guarda ci sta qua anche senza vita eh lo so ma ho appena ucciso sevarog con la urt guarda c'è il mottore guarda me lo spaccamoletto dai guarda Ma spaccamo dai a questa! No! Mid! Ammai preso, Rictor? Cosa c'è a loro, Rictor? Ah, invece di mettere la madrina ha messo quello del danno, ha messo il cavaliere di Ashur, molto bene, oh lì, al centro, da te, si, si, vedo, vedo, però mi segui, sei però qui, no, è qua, a sinistra, ora c'è pure rubavita, oh, però c'è anche Mardok, coppia pericolosa, appena ok, bene, no, non mi prendi con la catena 8 e 3 qua, eh? È pronto la non parata schipa E' lo stesso Riktor, muore Oh 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 oh, oh 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 Ehi come rire Oh 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 Qua pushano sempre Spero che senza mana Ecco, mi vado indietro Io ce l'ho ulti però Se lo prendi, Mardok L'hai preso? L'ho tirato solo il marchio E' vero solito noi indietro Io posso provare a ingaggiarlo? No, no, ma non sa che vuoi stare a quella vicina Non vedi che stanno Ah, stanno qui a Sera Arrivo su Riktor Arrivo su Riktor Stai grabato? Non direi la ultima Oh, di là a destra Vabbè, se in tre Vabbè Ah, è il coso Mardok dietro Ora tira ulti Eh, ma credo Non gira l'altra parte Ma adesso muori un po' Un enemy has been slain Di là, gente senza vita Sì, ora l'ho Sì, ora l'ho Sì, ora l'ho Sì, ora l'altro l'ho Qua, quanga Oh, questo invece di aiutarmi se ne va Guarda quello lì che invece di aiutarmi se ne va Fattor no, fattor no Eh, per rubarmi il kill Eh, per rubarmi il kill Eh, eh, eh Per tirare la giocco o ti ha testo qui Eh sì Eh sì Eh sì Ottimo lavoro C'ha accoglito Revena Addirittura Ma lo sta facendo caster quindi No, mezzo e mezzo Un ha scartato una L'ha messo un'altra Riktor mid, Sevarog mid Vado, 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 vado C'è anche i shimbi I quali facciamo un tappottone? Morirete, morirete, morirete tutti Sevarogh è rimasto là Eh, sevarogh è l'altro Però c'è Mardok da solo a sinistra Mmh Buono Buono quel Mardok Buona questa cadrega Sentilo qua come spara Eccolo qua Che viene lì Viene di qui Oh Fondo Eccolo La vita Qual è mio? Morte 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 Riktor 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 versus Riktor Ma arriva il Fuglianetto BAM Di Gallari Mega Streaker Per 84 Intanto Quangadessa ci butta giù la torre Non morirà Non morirà Buono 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 Bravo Bravo Mardok Se è venuto nel punto giusto È il momento giusto Ti volete fare blu Invece no Muori Unreal Ma c'è ancora la torre di centro Ma c'è ancora la torre di centro Così E' via C'è questa mano io Muore anche Però ci fanno le torre loro Muiono 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 ma ci fanno le torre però questa machine trova io qua eh sì ho due morti porca puttana sono già a livello 20 io chissà da quanto tra l'altro c'avevo ancora quella carta lì togli togli questa no facciamo 7000 gold ma gemma che non sei però che accopri il mid gli altri però stanno facendo i raptor invece di fare l'orb facciamoci l'orb noi ma io ci provo un po' sei vero che è morto sei vero che è morto oh quang non mi prendi divento invisibile eh muore adesso c'hai mica il marchio sì sì morte morte allora facciamo centro eh adesso facciamo tutto si si hai voglia ma anche l'inibito eh vabbè c'è solo Iggy guarda va guarda con che veloci taglia lo butto giù ahiaia pa 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 ra ra pa 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 pala ra e Iggy muore e Iggy muore Iggy muore ma è già morto eh è già morto No, Riktor, no, Riktor, no, 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 no Hai voglia Gli ho fatto coltellaccio e tango base E adesso mi faccio l'orb 12-0 che sto qua, Larry Passa solo anche che tu mi controlli lì Arriva a Temanore E io che faccio, o meno l'orb No, muoio, muoio, muoio Via, 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 via Dai, io glielo frego col coltellaccio Sì, sì, se lo fanno No, non stanno come un cazzo sai che l'ho fatto l'orb e non faccio pure l'ora guarda qua guarda qua pure Mardok una sinistra se noi perdiamo i inibitori vado io guarda qua 1405 Callari scatenata aspetta il momento propizio per fare orb e fare tutte cose l'inibitore va giù però abbiamo fatto l'orb bravo sono tre morti andate centro andate centro mettiamo pure la carta per far tanto tanto male 7000 gold mori una scuola eh ci sarebbe da spingere destra vabbè però se si è riuscita a fare il core è ancora meglio oh quasi che fuoco è riuscita a torre un po' da destra una fracca di minio è sì and enemy has been slain and enemy has been slain and ally has been slain and 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 so 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 E' un'invite interessa da salvage. Dai è ora, che senti messi uguali. Allora, vabbè. Malissimo. volendo subire quello a 4v per aumentarmi la potenza la mezzo anno oh che cazzo è successo? oh a destra? a destra? invece no, si dà alba adesso a toccandarci me eh no 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 guarda quello qua ruba vita nooo son morto stiamo arrivando eh nooo cagliare si sta prendendo pure i colpi dell'inhibitor senza senza bella lì 1406 callari inarrestabile uff ok